buonasera allora ragazzi da quello che mi risulta è tutto fatto è tutto fatto e potrebbe scattare qualcosa di importante anche dopo che ho registrato questo video e su youtube non siamo in diretta come sapete quindi se dovesse succedere qualcosa dopo queste mie parole cercheremo di fare il cosiddetto rabbocco di video perché siamo in direttura d'arrivo finalmente di questa sessione di mercato e quindi non ci si scappa da questi termini dal primo da giovedì 1 settembre non ci si scappa è fissato da anni da secoli da millenni probabilmente quindi non c'è nulla da fare e quindi attendiamo attendiamo dichiarazioni ufficiali notizie ufficiali perché siamo ancora nel campo della forte probabilità del tutto fatto ma non ancora ufficiale perché non è ancora tutto ufficiale perché la questione di il paredes mentre vi sto parlando naturalmente è abbastanza collegata alla situazione della fuoriuscita di altri giocatori artur in primis artur che sta trattando con lo sport in lisbona mentre vi sto parlando quindi anche qua ragazzi io declino come si dice questi casi ogni responsabilità rispetto a quanto vi sto dicendo e qualora appunto non venisse confermata nei fatti poi qualcuno di voi mi ha fatto notare ma perché una società come la di cui si deve ridurre all'ultimo istante sì e no nel senso che anche altre società si stanno riducendo agli ultimi sgoccioli di mercato il milan ha completato l'organico praticamente ieri con questo ciao credo si pronunci in questa maniera l'inter stava per chiudere per acerbi ma quanto pare il discorso è stato frenato da zang però voglio dire non solo la juve era lì a trattare giocatori o è lì a trattare giocatori in chiusura di mercato diciamo che ormai è diventato un must è stato diciamo abbastanza rispettato il è stata abbastanza rispettata l'idea di fare il grosso prima che iniziasse la stagione ufficiale e riservarsi diciamo gli aggiustamenti no per la per la fase successiva ammesso che parede possa essere semplicemente un aggiustamento non è tanto un aggiustamento ma secondo me l'accelerata su parede è stata motivata anche dall'infortunio a pogba perché non sono così sicuro che con pogba in piena efficienza la juve sarebbe andata poi su parede perché a pogba avrebbero probabilmente affidato quel ruolo di mediano comunque di centrocampista centrale che già aveva ricoperto proprio la juve il primo a sperimentare in quel ruolo in italia a livello di club fu appunto massimiliano allegri quindi diciamo che la situazione di pogba ha imposto di accelerare su un giocatore che si era considerato in orbita juventina ma non c'erano stati non c'erano state avance vere e proprie fino a lì i cosiddetti sondaggi adesso leggo praticamente ha chiuso l'ulteriore conferma appunto come vi dicevo oggi da galtier che non convoca il giocatore e quindi sarebbe veramente incredibile se tutto dovesse saltare mi sento di escluderlo con una buona parte di percentuale ecco tutto qua questa è la situazione attuale al momento in cui vi sto parlando la formazione domani allora allegri farà fare una rifinitura domani mattina lì scioglierà gli ultimi dubbi se devo andare con le sensazioni mie con le sensazioni mie e le sbaglierò tutte quindi prendete nota e fatevi fare la figuraccia domani mattina domani sera sensazione mia è che è più no che sì per gatti ed è più no che sì per milk dall'inizio poi se mi sbaglio ragazzi punitemi flagellatemi insultatemi ditemi che non capisco niente e accetterò tutti i vostri commenti in questo senso però però no allora passare al 4 4 2 ragazzi cosa vorrebbe dire secondo me appunto rinunciare a Kostic perché sei troppo sbilanciato in avanti boh non lo so non lo so la vedo ho l'impressione che allegri voglio andare un pochino più sul sicuro un pochino più sul sicuro poi mi sono riascoltato il discorso dei giovani no se sono bravi devono giocare però poi bisogna vincere le partite ci ho notato un po di contraddizione apparentemente in questa frase perché lui era partito dicendo con Miretti che dice di Miretti che aveva giocato bene contro la Roma ma però poi sono partite che psicologicamente ti possono svuotare e quindi lì innestando il dubbio sul fatto che posso o meno essere confermato domani sera contro lo Spezia non deve passare il messaggio che perché uno è giovane deve per forza giocare se uno è bravo gioca e me la sono riascoltata se uno è bravo gioca allora se l'equazione è questa per esempio di su le dice bravo ma sto facendo altre scelte e allora cioè bisogna un po mettersi d'accordo no cioè faccio un po faticare poi è vero che non puoi far giocare nella Juve 4, 5, 6 giocatori giovani perché perché sei ripreso Allegri sai benissimo che è un gran gestore di giocatori di navigata e esperienza e se prendi Allegri tu vai a diciamo così a intraprendere un determinato di progetto che mal si sposa con l'idea anzi che proprio per nulla si sposa con l'idea di progetto a lungo termine e quindi di investimento in buona percentuale sui giovani Allegri ha scremato 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 e alla fine c'è Miretti perché fagioli ragazzi anche qua mentre vi sto parlando sto parlando sia con la Cremonese che con la Sampdoria nonostante quello che ha detto Allegri ma lì vi ho già spiegato la sottigliezza comunicativa la strategia comunicativa io l'avrei tenuto se va via è perché la società ha deciso così e quindi non ci si può opporre in questi casi è una campagna di rafforzamento quella della Juve che è diversa da quella per esempio del Milan che ha puntato molto sui giovani ma fin dall'anno scorso e vedete in questo caso ha pagato ugualmente perché il Milan ha vinto lo Scudetto cioè ci sono diversi modi di intendere una campagna di rafforzamento no? un conto è se non hai la fretta di tornare a vincere ma evidentemente a Torino c'è questa fretta di tornare a vincere che poi a volte ti può creare delle confusioni perché anche l'anno scorso c'era questa fretta di tornare a vincere altrimenti a Torino si andava avanti col progetto Pirlo che prevedeva un innesto graduale di più giovani non solo è il solito discorso poi c'è sempre l'elemento di rischio in tutto perché sembrava con Allegri che la Juve potesse lottare fino all'ultimo per lo Scudetto all'inizio della scorsa stagione e poi è finita come è finita insomma sono tante le incognite ragazzi sono tante le incognite io dico solo una cosa questo rientro in disponibilità di Di Maria il 34enne Di Maria è sicuramente un'operazione è un'ottima notizia sicuramente per la Juve guarda caso senza Di Maria la Juve ha pareggiato due partite con Di Maria aveva vinto la prima giornata per gol e assist dell'argentino quindi se tanto vina santo se di domani gioca l'ultima mezz'ora la risolta non è che funziona esattamente così però è sintomatico ragazzi la Juve dà via Kulusevski che gioca molto bene in Inghilterra è vero che o meglio no con Allegri giocava da quella parte e lì adesso giocava a fare il trequartista del Tottenham la Juve dà via Kulusevski e Kulusevski non si trova nella Juve perché a sua volta Kulusevski non si trovava bene nella Juve va di là esplode e si sceglie di andare su di Maria è così è una scelta precisa è una strategia precisa che comporta che cosa poi chiudo o vinci subito subito vuol dire nell'arco di uno, due anni o sennò devi ricominciare da capo ma con un'altra strategia diciamo così ok iscrivetevi al canale e ci vediamo naturalmente domani nell'intervallo di Juve Spezia su Facebook sperando che la connessione funzioni e a fine partita su questo canale su YouTube al quale vi invito naturalmente ad iscrivervi ciao